Siamo alla località Colombetta, a Cardoso, domenica 12 febbraio 2023. Il paese di Cardoso. È un monte per alto. Il paese di Cardoso, domenica 12 febbraio 2022. Il paese di Cardoso, domenica 12 febbraio 2022. Casi di pietra del Cardoso. Il paese di Cardoso. Qui c'è il via Monte Forato. Il paese di Cardoso. 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 Il paese di Cardoso.